Siamo con Graziano Del Rio, dove siamo? Siamo sul ponte di Minturno, un ponte borbonico bellissimo 1932, questo ponte è il primo ponte strallato, cioè sospeso con delle catene in Europa, nel mondo praticamente ma ingegneria italiana straordinaria Ed è la dimostrazione che ce l'abbiamo potuta fare ai tempi dei Borbone Allora la prima tappa è Minturno, allora mi intorno vorrei fare n'altro la passo di adestrata Ci sono due questioni, non è che a noi dove è parlare di infrastrutture, abbiamo questo punto che non è una porta, ne ha fatto pure parla come ci stengo, è un'intera di questo punto, è il primo ponte europeo, è un perro. Ha un senso se riusciamo a fare il ragionamento di infrastrutture, io non parlerei proprio di e-e-fusco. Possiamo dire dunque che tutti quelli che raccontano che in questo periodo non stiamo facendo nulla su un'infrastruttura stanno dicendo semplicemente delle bugie, non dicono la verità, la verità è che abbiamo un più grande piano di sviluppo infrastrutturale in Europa perché ci invitano a noi piace lavorare più che raccontare. Tutti quelli che raccontano che in questo periodo non stiamo facendo nulla sulle infrastrutture stanno dicendo semplicemente delle bugie, non dicono la verità, la verità è che abbiamo un più grande piano di sviluppo infrastrutturale in Europa perché ci invitano a noi piace lavorare più che raccontare. Tutti quelli che raccontano che in questo periodo non stiamo facendo nulla sulle infrastrutture stanno dicendo semplicemente delle bugie, non dicono la verità, la verità è che abbiamo un più grande piano di sviluppo infrastrutturale in Europa perché ci invitano a noi piace lavorare più che raccontare. stanno facendo un'altra parte di sviluppo infrastrutture in Europa perché ci sono Non sono affatto normali quelle prassi di vita e di gestione dell'economia nelle quali non si pensa al valore della vita delle persone, ma a calcoli ottusi di convenienze e interessi. E tutto senza scrupoli, generando innumerevoli piccole e grandi inadempienze nei confronti del proprio dovere verso i diritti delle persone, di tutti senza diversità e distinzione. E noi temiamo, Padre, che per tanti, troppi anni, queste terre, le nostre terre, siano state considerate, e forse lo sono ancora, le periferie dell'Italia. Sospiriamo il giorno in cui tutto questo possa dirsi concluso per sempre. Dal ponte di Venturno che separa Lazio da Campania è tutto, torniamo sul treno. Ciao da Graziano e Matteo.